Ridono e scherzano con una nota tiktoker napoletana, mentre la figlia di quest'ultima è in preda all'attenzione al dolore del parto. E l'episodio è successo all'ospedale Rizzoli di Ischia, che ha coinvolto sette operatori sanitari. Dopo essere stata rilanciata sui social ed essere diventata virale, la scena ha generato non poche polemiche, tanto che l'Asla Napoli 2 ha deciso di avviare un'indagine interna per fare chiarezza. Un siparietto, quello tra i familiari della paziente e del personale medico, duramente censurato sia dal presidente dell'ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, sia dal presidente dell'ordine degli infermieri, Teresa Rea. I colleghi tutti devono capire che l'uso dei social può essere deflagrante. Bisogna fare l'uso dei social in modo molto adeguato e in modo molto molto attento. Purtroppo molti colleghi su questo non sono adeguaticamente preparati. Questi episodi che gettano discredito sulla categoria che non la merita, devono essere assolutamente governate e i colleghi devono essere molto più attenti. È un episodio che sicuramente deve essere condannato perché non è possibile ledere così la privacy dei nostri pazienti e né mettere in rete immagini che riprendono strutture sanitarie. Questo è fuori luogo. Però chiaramente questo episodio non può gettare fango su tutto quello che è l'operato dei nostri medici e infermieri che ogni giorno con spirito di grande abnegazione lavorano per dare comunque dei servizi ai nostri cittadini. Insomma, subito una grana per Zuccarelli che proprio in questi giorni è stato rieletto alla guida dell'ordine. L'obiettivo principale è cercare di far ritornare le menti che sono andati via e la fuga dei cervelli che si è realizzato durante il periodo del commissariamento in Regione Campania per poter far ritornare questi giovani che sono andati non per scelta ma per necessità fuori, farle ritornare in questa scuola medica napoletana che ha grandissime tradizione.